nel bosco il sindaco stava per mettersi a tavola e far colazione quando fu avvertito che la guardia campestre lo aspettava in municipio con due persone in stato di arresto ci andò subito e vide infatti la guardia campestre il vecchio oscedur che in piedi sorvegliava con piglio severo una coppia di borghesi già maturi l'uomo un ciccione dal naso rosso e dai capelli bianchi sembrava accasciato mentre la donna una massaia agghindata a festa rotondissima e grandissima dalle guance madide guardava con occhi di sfida la gente della legge che li aveva arrestati il sindaco domandò che c'è oscedur la guardia campestre rese la sua deposizione quel mattino era uscita alla solita ora per fare il suo giro dalle parti dei boschi di champiò sino al confine di argentail non aveva notato nulla di insolito nella campagna se non che il tempo era bello e che il raccolto prometteva bene quando il figliolo dei bredel che rincalzava la vigna gli aveva gridato ehi oscedur andate a vedere appena dietro il bosco nella prima macchia ci troverete una coppia di colombi che fra tutte e due avranno almeno 130 anni avviatosi verso il luogo indicato egli era entrato nella macchia e aveva udito parole sospiritali da fargli supporre un flagrante oltraggio al pudore allora avanzandosi sulle ginocchia e sulle mani come per sorprendere un bracconiere aveva colto quella coppia proprio nel momento in cui si abbandonava al suo istinto erotico il sindaco stupefatto considerò i colpevoli l'uomo contava almeno 60 anni e la donna almeno 55 si accinse a interrogarli cominciando dal maschio che rispondeva con voce così debole da essere appena udita come vi chiamate nicola bohren professione marciaio ride martir a parigi che cosa stavate facendo in quel bosco il marciaio rimase in silenzio abbassando la testa sul suo grosso ventre le mani sulle cosce appiattite il sindaco riprese negate quanto afferma la gente dell'autorità municipale no signore allora confessate sì signore che avete da dire vostra discolpa niente signore dove avete incontrato la vostra complice è mia moglie signore vostra moglie sì signore allora allora non vivete dunque insieme a parigi vogliate perdonarmi signore viviamo insieme ma allora siete matto proprio matto caro signore venire a farvi beccare in questo modo così all'aperto alle 10 di mattina il commerzaio che sembrava stesse per piangere dalla vergogna mormorò è lei che l'ha voluto glielo dicevo che era una stupidaggine ma quando una donna ha una certa cosa in testa sapete bene non ce l'ha altrove il sindaco che apprezzava il gallico umorismo sorrisi e ribatte nel caso vostro è il contrario che avrebbe dovuto verificarsi non sareste qui se l'aveste avuto solo in testa allora il signor buoran fu preso da un impeto di collera e voltandosi verso la moglie lo vedi dove ci hai trascinato con la tua poesia stiamo freschi adesso e andremo davanti al tribunale alla nostra età per reato contro il buon costume e dovremo chiudere bottega cedere la nostra clientela e abbandonare il quartiere l'avevo detto la signora buoran si alzò e senza guardare il suo marito spiegò le sue ragioni senza imbarazzo senza vani pudori e quasi senza un attimo di esitazione dio mio signor sindaco c'è bene che siamo ridicoli ma permettetemi di difendere la mia causa come un avvocato o meglio come una povera donna spero così che vogliate lasciarci liberi e risparmiarci la vergogna di un processo un tempo quando ero giovane una domenica ho conosciuto in questo paese il signor buoran lui era impiegato in un negozio di mercerie io lavoravo in una casa di confezioni mi ricordo come fosse ieri di quando in quando passavo la domenica con un'amica rose levec che abitava con me in ripigal rose aveva un amico io no venivamo qui con lui un sabato mi disse ridendo che il giorno dopo sarebbe venuto con un compagno capivo benissimo quel che intendeva dire ma risposi che era inutile ero una ragazza seria il signore dunque il giorno dopo trovammo in stazione il signor buoran che allora era un bel giovanotto ma io decise a non cedere non cedetti eccoci dunque arrivati a beson il tempo era splendido una di quelle giornate meravigliose che fanno il solletico al cuore col bel tempo tanto adesso come allora io divento scema in modo da far pietà e quando sono in campagna perdo la testa il verde gli uccelli che cantano le messi che si muovono al vento le rondini che sfrecciano l'odore dell'erba ai papaveri le margherite tutte cose che mi fanno impazzire è come lo champagne quando non se ne ha l'abitudine come dicevo il giorno era splendido e tiepido e chiaro così che vi entrava in corpo dagli occhi se guardavate e dalla bocca se respiravate rose simon si baciavano continuamente e vederli fare così mi faceva un certo effetto io il signor buoren vi seguivamo senza parlare quando non ci si conosce non si trova niente da dirsi avevo un'aria timida quel giovanotto e vederlo imbarazzato mi faceva piacere eccoci arrivati nel boschetto c'era fresco come alla spiaggia e sedemmo tutti sull'erba rose il suo amico scherzavano a proposito dei miei principi austeri ma capirete che non potevo essere diversa da quello che ero e a un certo momento ricominciano a baciarsi senza preoccuparsi di noi come se noi non ci fossimo poi si parlano sommessamente e infine si alzano e se ne vanno tra le fronde senza dire una parola immaginatevi che sciocca figura facevo io con quel giovanotto che conoscevo per la prima volta mi sentivo così confusa vedendoli andarsene in quel modo che ciò mi diede coraggio e mi sono messa a parlare gli chiesi che cosa faceva era commesso in una merceria come vi ho detto chiacchierammo dunque un po e questo fatto lo incoraggiò e volle prendersi qualche confidenza ma io lo misi a posto e anche alla svelta vero signor boiren confuso si guardava ai piedi e non rispose lei riprese allora ha capito quel ragazzo che io avevo giudizio e si è messo a farmi la corte con garbo da galantuomo da quel giorno è tornato tutte le domeniche era molto innamorato di me il signor sindaco e anch'io gli volevo molto bene sì molto era un bel ragazzo una volta a farla breve in settembre mi sposò e aprimmo il nostro negozietto in guida martir per parecchi anni fu dura signor sindaco gli affari non andavano e non potevamo permetterci il lusso di pagarci qualche gita in campagna e poi ne avevamo perduto l'abitudine sia altro in testa in commercio si deve stare più attenti alla cassa che alle frasche invecchiamo a poco a poco senza accorgersene da persone tranquille che all'amore non ci pensano proprio più non si rimpiange mai una cosa finché non ci si accorge che ci manca poi signor sindaco gli affari sono andati meglio eravamo ormai tranquilli per il nostro avvenire allora vedete non capisco troppo bene che cos'è successo dentro di me no davvero non lo capisco ecco che mi sono rimessa a sognare come una collegiale la vista delle bancarelle di fiori per le strade mi faceva venir le lacrime il profumo delle violette veniva a cercarmi mentre ero seduta dietro la cassa e mi faceva battere il cuore allora mi alzavo e mi mettevo sulla soglia della bottega per guardare il cielo blu fra i tetti quando si guarda il cielo da una strada della città sembra un fiume un lungo fiume che scende su parigi serpeggiando e le rondini vi passano dentro come pesci più stupidi di così non si potrebbe essere queste cose alla mia età che volete signor sindaco quando si è lavorato tutta la vita viene un momento che si si accorge che si potrebbe potuto fare qualcos'altro e allora vengono dei rimpianti oh sì dei rimpianti pensate che durante vent'anni sarei potuta andare nei boschi in cerca di baci come gli altri come le altre donne pensavo quanto è dolce sdraiarsi sotto le frasche amando qualcuno e ci pensavo tutti i giorni tutte le notti sognavo il chiaro di luna sull'acqua sino ad aver voglia di annegarmi nei primi tempi non osavo parlarne con mio marito sapevo bene che avrebbe riso di me e mi avrebbe subito mandata a vendere filo e aghi e poi per essere sinceri mio marito non mi faceva più molto effetto ma guardandomi nello specchio capivo benissimo che nemmeno io potevo fare effetto a nessuno così mi decisi e gli proposi una gita nel luogo dove ci eravamo conosciuti accettò senza diffidenza ed eccoci arrivati qui stamattina verso le nove ma quando mi sono trovata tra le messe ero tutta sconvolta il cuore delle donne non invecchia e in verità non vedevo più mio marito come adesso ma come era una volta ve lo giuro signore come vero dio era ubriaca ho cominciato a baciarlo lui era sorpreso come se avessi voluto assassinarlo mi diceva ma sei pazza sei pazza stamane che cosa ti salta in testa io non lo ascoltavo ascoltavo soltanto il mio cuore e lo feci inoltrare nel bosco ecco qui ho detto la verità signor sindaco tutta la verità il sindaco era un uomo di spirito si alzò sorrise e disse andate in pace signora e non peccate più sotto le frasche